Mi è stato chiesto di incidere un pezzo che ricordasse un po' tutte le persone che qualcuno, molti di noi, qualcuno di noi era perduto durante questi due anni lì. Pande lì, non l'avevo mai scritto, ci ho provato, è venuta fuori questa, da che per? Ho inciso con gli amici di Meran, la fratellata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.